Amici rossoneri, amici amanti del calcio, un saluto da Luca Zed, eccoci qua. Allora, molto complicata, molto complicata la descrizione, mi viene molto complicata la descrizione della partita di ieri. Milan-Bologna che ci ha visto perdere di fatto due punti. Avevamo una grandissima opportunità, visto che la Juventus aveva pareggiato, di rosicchiare due punti, ma come al solito non ne approfittiamo e questa cosa veramente mi fa imbestialire. Ma perché dico che è difficile commentare questa partita? È difficile perché la partita è iniziata bene, siamo andati subito in pressione con il Bologna che ha fatto davvero un'ottima partita. C'è stato spettacolo, due squadre veramente messe bene in campo almeno nella prima parte di partita, parlo del Milan, dopo un po' insomma si è un po' come al solito allungata, qualche amnesia difensiva. Ma è partita bene dando spettacolo e come ho detto creando una certa pressione nei confronti del Bologna che mi faceva ben sperare. Poi classica amnesia difensiva, il Bologna va in vantaggio con veramente tanti tiri che non sono stati stoppati, non si è riuscito a liberare l'aria e poi alla fine è arrivato Zirze, veramente un giocatore direi completo, sembrava che ce ne fossero quattro in campo, è arrivato Zirze che l'ha messa dentro con qualche collaborazione di Meignan e compagnia cantante lì in difesa. Quindi insomma un po' di responsabilità sul primo gol. Poi l'altra cosa veramente che mi rammarica è che siamo rimasti in vantaggio, riusciamo a trovare il vantaggio con un superlativo love to cheek, ma questo vantaggio dura sette minuti. È una cosa pazzesca, sembra che noi andiamo in agitazione, diventiamo un po' così poco sicuri dei nostri mezzi quando siamo in vantaggio, ci caghiamo un po' in mano, usando un termine un po' terra a terra, ma per capirci meglio è meglio usare termini poco ricercati. Quindi è difficile anche rassegnarsi a questa perdita di due punti perché potevamo portarli a casa forse con qualche accortezza in più, e insomma con qualche gestione della palla diversa, anche qualche gestione da parte dell'allenatore diversa. Ma così non è stato. È stato anche abbastanza di difficile fare le pagelle perché non sono delle pagelle bruttissime, questo mi fa anche incazzare perché non avendo dato dei bruttissimi voti, se non credo, sì, un paio, proprio gravemente insufficienti, ma gli altri, insomma, ecco, qualche cinque e mezzo, per cui non c'è stato un complesso di voti gravemente insufficienti, questo mi dà ancora più noia. Ma veniamo appunto alle Zed pagelle. Innanzitutto mi scuso per il ritardo, ma oggi ho passato la giornata con la famiglia, solo adesso ho potuto iniziare a registrare e a, insomma, completare quello che è il weekend di YouTube per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio canale. Ovviamente iscrizione, like, non ve lo dico più. Grazie, la live di ieri è stata molto bella, molto seguita. Continuate così con l'iscrizione e like al canale. Grazie. Allora, partiamo da Magic Mike Mignan, che ieri è stato poco magic. Ho dato cinque e mezzo. Sembra che non sia più lui dopo quell'episodio increscioso di Udine. Si è un po' così... È un po' intanto in un loop negativo, forse più psicologico che prestazionale, che fisico, però purtroppo il voto non è sufficiente. Cinque e mezzo, gli è passata la palla in mezzo alle gambe nel tiro di Zirk Zee. Poi un tuffo un po' strano, non da lui, in occasione del rigore preso. Secondo me con un po' più di convinzione avrebbe potuto pararlo, anche perché l'aveva indovinato, aveva capito da che parte arrivasse la palla. Cinque e mezzo. Poi Calabria a voto sei. Allora, ha fatto l'assist per il gol e poi la prestazione è stata, direi, sufficiente. Non come quell'altra contro l'Udinese. Questa qua è stata veramente una partita sufficiente. compiglio con sicurezza e, come ho già detto, l'assist sancisce questa sufficienza. Poi, come al solito, la munizione che magari poteva anche evitare, io credo che poi Pioli l'abbia sostituito, soprattutto per quello perché stava giocando abbastanza bene. Non posso dire lo stesso di Kier. Cinque e mezzo. Io lo vedo in continua difficoltà. Ha sofferto tantissimo Zirkzee, ma penso che Zirkzee lo soffra in questo periodo qualsiasi difensore. Poi anche in occasione del rigore che si è procurato, secondo me ci è andata anche un po' bene che forse lì si poteva anche l'arbitro decidere per un gioco pericoloso. Insomma, lì poi si tratta anche divisione dal campo. Io appena l'ho visto ho detto subito rigore, poi magari qualcuno poteva anche dire no, ma guarda che Kier, anzi, è stato detto che magari Kier è andato troppo basso con la testa, poi io rivedendolo, secondo me non era neanche basso, ma ecco, diciamo che se non avessero dato il rigore non ci sarebbe stato da spaccarsi la testa perché ci poteva stare il non rigore. Cinque e mezzo per Kier. Gabbia voto 6 più. Allora, sicuro, concentrato, tutto molto bene, direi un giocatore rivalutato, veramente rinvigorito dalla sua esperienza spagnola, devo dire che gli ha fatto solo bene, bravo Gabbia, non mi preoccupa più. Adesso quando arriva una palla dietro che c'è lui, magari prima di questo lasso di tempo che lui è passato in Spagna mi dava qualche preoccupazione in più e adesso lo vedo più sicuro e quindi molto bene, insomma, 6 più per lui in questa partita e qualche errorino l'ha fatto, tipo su Zirze che poi, insomma, gli è scatolito il gol, ma lì è stato proprio un errore generale della difesa che, boh, non so, sembrava che giocassero a Flipper e non sono riuscito a pulire l'aria, poi vabbè è arrivato il gol. Però Gabbia 6 più. Allora, Teo Hernandez, voto 5. Allora, 5, io ho scritto che è stato, secondo me, ho scritto, vabbè sì, l'ho scritto, che è stato evanescente in fase offensiva. Un po' impreciso in quella difensiva, poi un rigore che tira, che è una ciofeca, poi tra l'altro magari poteva anche evitare di tirarlo di nuovo in rete, visto il regolamento, magari non lo sa, e magari visto che tutti i difensori stavano andando contro di lui, magari la buttavamo dentro loro direttamente, la palla, e potevamo, insomma, essere qui a fare altri tipi di commenti. Però, vabbè, è andata così, in quella circostanza, poi con l'adrenalina, non è che ti leggi il regolamento, non ti appare il regolamento, per cui ci sta che tu cerchi di buttare dentro la palla, e quindi, vabbè, su questo non posso, non voglio dire niente, però la prestazione in ogni caso è stata brutta, perché almeno il rigore lo devi mettere dentro, ragazzi, il rigore va messo dentro, e dopo arriviamo anche a quell'altro che, vabbè, tirate un rigore, che ragazzi, forse lo tiro meglio io. Va bene, comunque, 5 per, cioè, va bene, va bene una sega. Ternandez voto 5, Pulisic voto 6+, dunque, parte da lui l'azione del pareggio, fa un bel passaggio, veramente, quasi di prima, sì, penso sia stato di prima, per Calabria, poi lui, orizzontalmente, gliela passa a Loftus, che la mette dentro, quindi, poi, al di là di questo episodio, che è importante, direi che, ha iniziato proprio la partita, con un bel piglio, bello, bello allegro, bello, così, faceva, faceva, ringallutare, tutta la fase d'attacco, poi, sinceramente, è un po' calato, ma, nel complesso, secondo me, è una partita, più che sufficiente, bravo, il pupillo, Pulisic, Adli voto 6-, dunque, lui, dà sempre la sensazione, di poter dare di più, tu dici, cavolo, adesso fa l'azione bella, perché, è partita bene, poi, a un certo punto, boh, forse non ha, la massima fiducia, nella sua, passaggio finale, quello che vuole fare, e smette di fare, quello che sta facendo, mi dà questa sensazione qua, quindi, sei meno per lui, e quindi, può fare di più, ovviamente, ha fatto delle belle discese, quasi fino all'area di rigore, e, cosa posso dire, ragazzi, secondo me, ha ancora margine di miglioramento, a me, Adli piace, quindi, lo metterei, lo metterei sempre, passiamo, al migliore, in campo, Love2Chic, ho dato 8, ragazzi, doppietta, prima doppietta, credo sì, in campionato, cosa si può volere di più, poi, ho sbagliato, stavo già leggendo Reinders, e, sì, doppietta, poi, grande personalità, ho scritto che ha avuto, secondo me, una grande personalità, e poi, finalmente, abbiamo capito, che Love2Chic, deve stare lì, a fare il trequartista, in mezzo, tra Leao e Pulisic, meno male che Pioli, non lo mette più al retrato, perché, secondo me, perde il 50% del suo potenziale, stando indietro, lì, invece, insomma, personalità, doppietta, che più ne metta, 8 per lui, grande Love2Chic, fantastico, una bestia, Reinders, voto, 6 meno, diciamo che, la traversa che ha preso, è stato, un lampo, ci spariamo, delle metafore fantastiche, la traversa che ha preso, è stato un lampo, che ha acceso, la sua partita, che, fino a lì, e anche dopo, è stata, un pochino, un pochino in ombra, secondo me, ha bisogno di rifiattare, non ha, fatto una partita, insufficiente, però, insomma, si vede, che è in calo, ribadisco, 6 meno, per Reinders, Leao, voto 6 più, Allora, la partita è stata, ad intermittenza, come ormai, è suo solito, però, quando si accende, ragazzi, fa la differenza, si è procurato, il calcio di rigore, veramente, ha fatto una discesa fantastica, è partito, praticamente, dalla mediana, è arrivato fino in aria, poi lì, manata in faccia, rigore, però, ragazzi, è poi resistito, a un paio di attacchi, durante la, la sgroppata, che, secondo me, il 90% dei giocatori, si sarebbero buttati a terra, lui, insomma, con quelle leve massicce, è riuscito a stare in piedi, poi, vabbè, è arrivato in aria, rigore, più di così, secondo me, ha fatto il massimo, e basta, sostanzialmente questo, partita positiva, e poi, tra l'altro, ecco, avevo messo un, un appunto, che partecipa, anche, al gol, del, del raddoppio, perché, è iniziato da lui, penso, la prima fase, dei passaggi, comunque, vabbè, di là di questo, sei più per, le out, Giroud, ragazzi, la nota dolente, Giroud, poi c'è un'altra, di nota dolente, ma fa parte dei subentrati, Giroud, voto 4, allora, tutta la partita, si può, riassumere, con, due colpi di tacco, perfetti, due colpi di tacco, perfetti, basta, poi lui non ha fatto più, niente, ovviamente, poco cercato, se proprio, proprio vogliamo, trovare un alibi, a Giroud, e poi, vabbè, il rigore, ragazzi, mamma mia, il rigore, io l'ho rivisto, tre, quattro volte, forse anche cinque, non si può tirare, in Serie A non puoi tirare, un gol così, cioè devi tirare, se sei insicuro, sei stanco, ma tira una legnata centrale, a mezz'aria, non la beccherà mai nessuno, cioè adesso io non voglio insegnare, per carità, a tirare il rigore al Giroud, però voglio dire, non puoi, non puoi tirare un rigore del genere, cioè non puoi tirare un rigore del genere, se io voglio tirare il rigore del genere, non so, a quelli dell'oratorio, così, giusto, cerchi di metterla, un po' angolata, e dove va va, ma tu sei un giocatore di Serie A, poi, non bocciamo Giroud, per carità, perché poi io già so che magari, eh ma cavolo, adesso ci ha fatto vincere lo Scudetto, tira la carretta da una vita, sì, sì, certo, ma io lo sto valutando in questa partita, in questa partita ha fatto una partita da 4 in pagella, e questo voto è avvalorato da quello scempio di calcio di rigore, non ha messo a segno una roba veramente scandalosa. Allora, diciamo prima Pioli o prima i subentrati? Facciamo prima Pioli, Pioli voto 5, io non posso ovviamente dare tutte le colpe a Pioli, ma la sufficienza non mi sento di dargliela, la cosa bella che ormai lascia l'off to cheek trequartista, quindi questa è una decisione che gli fa onore, che fa capire che insomma qualcosa ci capisce, e questo è un fatto. Poi vabbè, ovviamente perde il paragone tecnico con Tiago Motta, questo è abbastanza palese, e poi ragazzi, poche idee, pochi spunti, poi quando andiamo in vantaggio, non so, siamo in vantaggio, cioè non lo so, sembra intimorito una volta andiamo in vantaggio, la squadra si allunga, i giocatori cambiano di ruolo, vanno fuori ruolo, io sinceramente non riesco, c'è confusione, confusione tattica, quindi non riesco a capire. Ovviamente non è solo colpa sua, perché se lui chiede ai giocatori e la società non glieli compra, purtroppo poi possono succedere anche queste cose qua, però forza Pioli, dai che devi svegliarti un po' anche te e puoi fare sicuramente meglio. I subentati sono Florenzi, ho dato 6 e mezzo a Florenzi ragazzi, perché ha fatto un ingresso in campo ottimo e poi l'assist in occasione del secondo gol di Loftusic, per cui grande Florenzi, anche giocatori di esperienza spesso servono. Musa 6, una partita di quantità, quantità veramente, anche qualità, ma più che altro quantità e voglia, voglia di andare a fare qualcosa di bene, lo testimonia anche una discesa che ha fatto verso la fine, che è partito dalla mediana, ha scartato con un paio di finte due giocatori e poi è arrivato fino in fondo e ho detto, caspita chi è Maradona? Invece era Musa, che insomma è entrato molto bene in partita, bravo Musa. Jovic 4 e mezzo, è un giocatore che praticamente in alcune partite riesce, è veramente raccapricciante, riesce a scartarsi da solo, già arriva la palla, non c'è nessuno attorno, si incespica sulla palla, la perde, insomma ha perso un sacco di palle, poi non è, io credo che non sia neanche, a mio avviso è entrato in partita, io non ho rivisto tutta la partita, vado a memoria, ho fatto le pagelle andando a memoria sulla mia cronaca che facevo e ricordo che quando la palla arrivava dalle parti di Jovic mi cadevano un po', diciamo le braccia, ecco, quindi 4 e mezzo per lui. Terracciano, Terracciano ragazzi, Terracciano stesso voto di, stesso voto di Giroud, il ragazzo è giovane, deve crescere, io credo che sia stato anche un errore, forse metterlo dentro, tra l'altro io non capisco, Terracciano è un terzino, più che altro un terzino destro e da quando è arrivato da noi sta giocando a sinistra, è una roba veramente che io, questa cosa qua non riesco a capirla, è vero, lui dice io posso fare questo, posso fare quello, ma se tu giochi tutto un campionato o gran parte di un campionato, o gran parte della tua carriera a destra, poi ti mettono a sinistra, zi lo sai fare, però voglio dire, secondo me è meglio metterlo a destra, poi vabbè, è andato a sinistra, in ogni caso, al di là di questo, ha perso, ogni pallone che gli ha arrivato l'ha perso e poi quella fase difensiva dove si è aggrappato alla maglia è stato veramente un comportamento, un modo di fare, proprio da principiante, da roba che si vede in eccellenza, una roba che non riguarda la Serie A, sicuramente è un bravo giocatore, sicuramente crescerà, sicuramente diventerà bravo, spero diventerà davvero un giocatore da Milan, però in questa partita qua veramente mi ha stupito, mi ha scioccato in senso negativo. Come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un like al video, sono abituato a dire lasciate un like alla live, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale ragazzi e per quello che rimane vi auguro una felicissima e una buonissima domenica. Ciao a tutti e prestissimo.